La Scandone nelle difficoltà è riuscita a trovare due protagonisti inattesi, De Monte Harper e Luca Campogrande. In un basket sempre più ricco di giocatori stranieri ha fatto piacere allo staff tecnico Irpino vedere brillare per una sera Luca Campogrande. Sul cestista romano gli Irpini hanno puntato all'inizio della stagione, gli infortuni lo hanno penalizzato soprattutto nel percorso di crescita. La prima parte dell'anno non l'ha praticamente giocata, adesso può essere invece il suo momento. Il contributo dell'ala capitolina permette a Coach Vucinic di fare più valutazioni. La partita contro Varese è stata fondamentale per il ragazzo, soprattutto per scludarsi da dosso un po' di pressione. Domenica, oltre all'impegno e al buon contributo difensivo, ha messo a segno un paio di triple pesanti, che sono il suo marchio di fabbrica. La fiducia ritrovata potrebbe consentirgli di essere protagonista in questo finale di stagione. L'altro giocatore sugli scudi è stato De Monte Harper. L'americano non è molto apparecente, ma è un equilibratore e nel reparto esterno può ricoprire più ruoli. Bravo a mettersi al servizio della squadra, duttile ed a differenza di qualche compagno non avverte la pressione.